L'avvertenza dello storico quotidiano La Città, alla quale in queste ore si è aggiunta quella dell'emittente televisiva Telediocesi. A Salerno si fa sentire forte la crisi dell'editoria. In provincia hanno fatto tappa il presidente nazionale della Federazione della Stampa, Raffaele Lorusso, e il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. In questo momento c'è un'emergenza forte qui a Salerno, un'emergenza di informazione che significa un'emergenza democratica, un'emergenza del pluralismo dell'informazione. Quindi siamo tutti qui, siamo contenti anche che oggi ci sia il sindacato. E' una battaglia che continua. Solidarietà totale ai colleghi in Sciobro, siamo al sesto giorno di Sciobro, ai colleghi della città, ai quattro colleghi che hanno ricevuto l'elettro di licenziamento, ma tutta la redazione. Solidarietà totale a Telediocesi dove si annuncia altri provvedimenti molto pesanti. Che l'informazione è sotto attacco, ce ne stiamo accorgendo sempre di più. Il modello di questo governo è noto a tutti, il governo non ama la stampa perché non ama lo spirito critico, non ama la diffusione di notizie sgradite al governo. Per loro informazione deve essere la chiacchiera in rete che deve essere poi manipolata attraverso le piattaforme digitali. E' un modello che va contrastato, ripeto, devono contrastarlo i giornalisti, deve contrastarlo la politica, ma devono contrastarlo anche i cittadini, perché quello che è in gioco non è soltanto il futuro di un settore, è il gioco, la tenuta democratica del Paese. Grazie. 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 Grazie.